Ciao bestie, oggi tutorial semplice e veloce Dopo lo schema di un occhio malato andiamo a colorare con il neocollo E minchia, boh, è una mezza magia Sta roba si acquerella e quindi ne approfittiamo A questo punto sono solo un matto che gratta i pastelli su un tagliere Però funziona e stendiamo i toni base Per la pelle uso tipo un pesca, boh Per le ombre un grigio fumone con un violetto Ora, bella merda mi direte voi Ma la cosa figa è che si può ripassare poi a secco sopra Quindi le ciglia belle spesse e veloci Definiamo la palpebra Non so di chi sia sto occhio ma mi sa che ha avuto giornate migliori E definiamo i riflessi sull'iride Con il pastello bianco da ignoranti proprio Poi così tanti riflessi non ce li hai neanche in mezzo a San Siro Però rendono più realistiche E anche oggi un bel disegno felice, lo facciamo domani